Salve a tutti, è stata una settimana che non dimenticheremo sui mercati finanziari. 5 agosto del 2024 entra tra le date, quelle che verranno appunto ricordate come il 19 ottobre del 1987 che per Antonio Mas era presente il lunedì nero sui mercati finanziari. Questo 5 agosto verrà iscritto negli annali della finanza perché il Nikkei in quella data che appunto qualche giorno fa ha perso il 12,4%, panic selling, abbiamo visto un po' di tutti i colori anche se poi fortunatamente le cose sono molto migliorate nei giorni successivi e il carry trade, la bolla del carry trade giapponese che è scoppiata di fatti questa settimana potrebbe secondo JP Morgan non avere di lunga per quanto riguarda le operazioni ancora da smontare per chi ha aperto appunto negli ultimi due anni queste operazioni forte di 1 yen sempre più debole e di tassi molto molto bassi, anzi azzerati nel Giappone rispetto alla Federal Reserve perché negli ultimi due anni, anzi tra il 2022 e il 2023 perché poi fondamentalmente nell'ultimo anno si è fermata, comunque in quel frangente ha alzato i tassi di 525 punti base l'equivalente di 21 rialzi da 25 punti base anche se non ha fatto proprio 21 rialzi ne ha fatti meno perché in alcuni casi ha alzato più di 25 punti base però oggi vorrei farvi vedere quello che è successo nel 1998 perché la storia ci aiuta Mark Twain diceva la storia non si ripete ma fa rima e nel 1998 anche lì eravamo in estate ad agosto tra l'altro agosto è uno dei mesi in cui accadono quando devono accadere delle tempeste che vengono appunto ricordate, nel 1971 era feo agosto quando Nixon diede un colpo agli accordi di Bretton Woods del 1944 stabilendo di imperio che appunto la sospensione della convertibilità dell'oro in dollari e quindi dando vita in quel giorno con quella decisione arbitraria in attesa per certi versi dando vita al nuovo sistema monetario basato sulle valute fiat fiduciarie come dire sia fatto così ma senza divagare ci sono tanti agosti 2015 la svalutazione dello yuan sorpresa da parte della Bank of China e lì a quel punto altra tensione e tra agosto e settembre ci sono un po' casi particolari, Lehman Brothers è fallita nel mese di settembre oppure nel settembre del 2018 c'è stata la recente crisi del reverse repo market negli Stati Uniti crisi interbancaria con un intervento di sostegno della Fed, i tassi arrivarono oltre il 10% di tassi overnight. Questo elenco potrebbe continuare ma vorrei approfondire quello che è successo nel 1998 qui siamo sul dollaro yen, siamo sul 98 vedete forte svalutazione del dollaro quindi rivalutazione dello yen. In quel momento c'era la crisi del rublo russo anche il fallimento del default sul debito da parte della Russia, attenzione anche per quanto riguarda lo yen, la rivalutazione, la politica monetaria tra le due aree Stati Uniti e Giappone, anche lì in quel caso si parlava di Stati Uniti pronti a tagliare i tassi c'era Griezmann al comando della Federal Reserve e infatti tagliò i tassi tre volte nell'ultima parte del 1998 a partire da settembre. Un po' quello che è anche in quel momento i tassi erano al 5,5% alta ricorrenza storica. In quel momento anche fallì il fondo Long Term Capital Management che tra i partners aveva i due premi Nobel Merton e Scholes per l'economia, fondo che stava andando molto molto bene e che invece poi proprio per le sue speculazioni perse tutto. In quelle operazioni anche legate appunto alle valute in quel momento appunto ci fu una crisi valutaria importante partita dalla Russia, dal rublo russo 1998 e poi anche riverberata nel cambio dollaro-yen che stiamo vedendo che ebbe uno spike molto molto violento anche perché appunto ci fu poi la Federal Reserve che dovette tagliare i tassi con Griezmann. Quindi un piccolo parallelismo storico tra quello che abbiamo visto in questa settimana, in queste ultime giornate andiamo adesso scorriamo ai giorni nostri con questo yen che si è rivalutato tantissimo a partire da da metà luglio quando appunto sono state chiuse le posizioni short sullo yen da parte di chi era short però visto che poi il 31 luglio si è riunita la Bank of Japan e c'era area di qualche operazione di possibile rialzo dei tassi, chi era short magari ha ben pensato di vivere neutralmente questo momento. Poi c'è stato appunto lo spike da panic selling che conosciamo e poi il rimbalzo adesso del dollaro e quindi il cambio dollaro-yen continuerà a essere sorvegliato speciale anche perché appunto abbiamo questo precedente del 1998 con Griezmann che tagliava i tassi tre volte e con una forte rivalutazione dello yen e anche lì c'è di mezzo, ci fu di mezzo il carry trade. In finanza non ci sono pasti gratis quando qualcosa sembra troppo semplice come lo è stato negli ultimi due anni montare queste operazioni di carry trade che ripeto sono operazioni con cui ci si è indebitati in yen perché lo yen era la moneta di un'economia dove i tassi erano a zero e non accennava a rivalutarsi e quindi piuttosto a svalutarsi e poi con quei soldi si è comprate attività più rischiose diciamo così magari in altre valute magari in dollaro. Continuo a farvi vedere il grafico, adesso ci spostiamo vorrei farvi rivedere il grafico della straordinaria correlazione tra dollaro-yen e il nasdaq, le magnifiche 7, insomma il rischio il riscon di questi ultimi tempi perché è un grafico straordinario cioè fa capire che dollaro-yen più il dollaro si è rivalutato negli ultimi anni nei confronti dello yen più diciamo c'era appetito al rischio e quindi c'è infatti anche il momento in cui ha cominciato a stornare il nasdaq, le magnifiche 7, è coinciso proprio con lo storno del dollaro-yen con la chiusura delle posizioni short sullo yen. Quindi straordinaria correlazione tra queste due grafici, tra queste due classi di investimento che ci aiuta meglio a inquadrare quello che è successo, l'episodio del 1998 dobbiamo tenerlo a mente perché Grispan tagliò i tassi, vediamo se anche la Federal Reserve taglia i tassi ma anche perché, e qui vado a chiudere questo breve video di raccordo e saluto settimanale, di fine settimana, anche perché poi la crisi del fondo long term capital, management, quello di cui vi ho parlato con i partners premi Nobel per l'economia, come fu risolta? Fu risolta con aiuti, aiuti finanziari, sorvegliati e gestiti dalla Federal Reserve, un pool di 14 grandi banche iniettò liquidità, 3,6 miliardi di dollari per gestire diciamo il fallimento ordinato di questo fondo per evitare che questo fondo poi il suo fallimento non avesse rischi sistemici visto appunto la leva finanziaria con cui aveva operato. Però anche lì ci fu forse uno dei primi moderni episodi di sostegno finanziario della liquidità e tra virgolette di moral hazard perché alla fine si capì che quando c'è un problema che minaccia una sovrastruttura, la stabilità finanziaria sistemica, a quel punto interviene Mamma Fed e va ad aiutare e in quel caso non fu proprio una liquidità iniettata dalla Federal Reserve ma fu gestita, organizzata dalla Federal Reserve attraverso questo consorzio di 14 banche. Questo parallelismo è importante a mio avviso perché potremmo avere un Q4, ne parliamo spesso per quanto riguarda la liquidità eccetera, un Q4 in cui ci potrebbe essere una nuova espansione della liquidità perché la Federal Reserve potrebbe terminare il quantitative tightening perché appunto ci potrebbero essere un ritorno dei buyback da parte delle aziende che in queste trimestrali non hanno nominato questa parolina magica e anche i buyback vanno messi nella formula della liquidità, noi parliamo sempre della formula della liquidità indicando la Net Fed Liquidity, quella che deriva appunto dalla Federal Reserve, dal Tesoro eccetera eccetera ma c'è anche il tema dei buyback e quindi l'apporto delle aziende. Quindi è molto molto importante monitorare questo che accade sul fronte della crisi, della bolla del carry trade, di come verrà gestita e le prossime mosse delle banche centrali e delle aziende eccetera eccetera in chiave di liquidità perché se in Q3 liquidità diciamo abbastanza flat in questo momento si è un po' migliorata ma non sta dando grandi strappi sono in tanti gli analisti, gli esperti, i gestori che prevedono per varie dinamiche magari per anche il Tesoro che ha in questo momento un serbatoio importante di circa 800 miliardi nel proprio conto corrente potrebbe scaricarlo a terra a ridosso della campagna elettorale eccetera eccetera del cuore delle elezioni, c'è anche il tema appunto della fine del quantitative tightening possibile da parte della Federal Reserve quindi per varie ragioni sono in tanti a vedere un Q4 molto più liquido di espansione della liquidità che potrebbe quindi eventualmente andare a supportare i mercati che stanno vivendo anche una stagionalità negativa perché lo ricordiamo da luglio all'ottobre, la prima parte di ottobre, i mercati hanno tendenzialmente una stagionalità di correzione, una stagionalità negativa, poi gli ingredienti che l'alimentano a volte sono importanti come questo della bolla del carry trade di questi giorni, a volte sono meno significativi eccetera eccetera, ma comunque i mercati hanno questa stagionalità da non dimenticare, da non trascurare, poi a volte si cerca sempre una giustificazione per una correzione, per un ribasso ma i mercati anche naturalmente in questa parte dell'anno tendono ad essere meno forti che in altri momenti, staremo a vedere ma intanto la partita tra soft lending e hard lending va avanti e nell'ultima settimana sono arrivate delle richieste dei sussidi settimanali per la disoccupazione degli Stati Uniti migliori delle attese, quindi il soft lending ha fatto un gollo come ho scritto su Twitter, la partita comunque è aperta, la settimana prossima avremo inflazione degli Stati Stati Uniti di luglio e proprio nel momento in cui il focus degli investitori sembra spostarsi dall'inflazione che preoccupava tantissimo fino a poco tempo fa e adesso magari si sta un po' stemperando ma vedremo se la prossima settimana avremo conferme da questo punto di vista dall'inflazione alla crescita, al pericolo crescita e quindi quando c'è questo cambiamento di focus da inflazione a pericolo crescita c'è un ribaltamento anche nel modo in cui i mercati reagiscono ai dati macro, quando il focus è sull'inflazione le brutte notizie macro vengono viste positivamente e stimolano di solito una buona reazione dei mercati finanziari perché se il nemico da combattere il primo tarlo dei mercati è l'inflazione, una brutta notizia vuol dire che probabilmente l'inflazione e il nemico sta perdendo colpi. Se invece il focus si sposta sulla crescita e quindi sul rischio recessione, sulla partita che stiamo vivendo tra soft lending e hard lending, le brutte notizie macro vengono invece viste negativamente dai mercati perché vengono viste come un gol per l'hard lending così come le buone notizie come quella vista giovedì sui sussidi della disoccupazione vengono visti bene perché sono un gol per il soft lending. Quindi è cominciata questa partita tra soft lending e hard lending, le buone notizie presenteranno dei gol per il soft lending, le brutte dei gol per l'hard lending, vedremo chi segnerà più gol eccetera eccetera nel momento in cui, e lo scopriremo probabilmente la settimana prossima, il tema inflazione al momento rischia, anzi per fortuna tra virgolette dopo tanto tempo potrebbe essere un po' dimenticato o meno market mover come lo è stato finora in questi ultimi due anni per i mercati finanziari. Quindi la settimana che si apre e che vedrà anche il ferragosto è una settimana importante. Però teniamo a mente e studiamo anche il 1998 quello che è successo al di là della crisi del rublo russo ma anche quello che è successo come vi ho fatto vedere con lo yen perché c'è un parallelismo, una dinamica interessante su quello che è successo per quanto riguarda lo yen, su quello che fu l'intervento della Federal Reserve di Grispan con tre tagli da lì a fine anno nel 1998 e appunto su come fu gestita la crisi in quel caso che causò il cigno grigio fu il fallimento di questo fondo che però appunto poteva avere anche decisioni sistemiche e allora si mise una toppa da 3,6 miliardi tantissimo per quei tempi. Quindi cerchiamo di studiare anche il passato per vivere con più consapevolezza anche il presente con tutte eventualmente gli incastri e le correlazioni storiche. Fatemi sapere anche voi se vi ricordate quello che è successo nel 1998, come lo avete eventualmente vissuto e appunto ci vediamo, ci sentiamo prossimamente. Alla prossima!